Puoi dire qualcosa per il tuo disagio nel sentire il tuo subconscio che ti parlava a raffica in positivo? Io sono uscita di qui ieri con un subconscio che mi ha bombardato di positività, forse tutta la positività che non ho sentito in una vita l'ho sentita in un giorno, in un'ora. Era come se io fossi seduta su una Ferrari che partiva in settima, non so neanche se c'è la settima ma in settima e io rimanevo seduta indietro, quindi ero io, ero come... C'erano due vie, un binario che correva velocissimo del mio subconscio e io che mi frenavo e questo sdoppiamento è stato strano, è stato particolare come situazione E adesso però sono pronta a seguire la settima della Ferrari Perché ciò che tu avevi capito era che non eri mai stata pronta a vivere il totale benessere con te al cento, con la tua mente che era tuo totale alleato Assolutamente, io mi sono resa conto che la mia mente non è mai stata un mio alleato Con un subconscio, con delle diciture come c'erano prima, cioè io mi sono sforzata, la mente razionale ha cercato di andare avanti ma non era possibile raggiungere un cento E poi a vivere pace e serenità e tranquillità e tutta positività ti sembrava strano? Mi sembrava strano, mi sembrava un qualcosa di nuovo perché di fatto non è mai stato così, non sono mai stata bombardata a raffica come mi è successo ieri E ho detto quello che non ho ricevuto in una vita l'ho ricevuto in un'ora e quindi mi sembrava stranissimo, mi sembrava tutto molto strano E invece oggi? E invece oggi capisco che è normale, che è normalissimo e che era il posto dove avrei sempre dovuto rimanere e ci voglio stare E adesso immaginando come ti cambierà la vita da questo momento in poi, che mi dici? Sono pronta a volare, sono pronta a scoprirmi, sono pronta a vedermi fare cose che probabilmente fino a ieri non ho mai fatto Sono pronta a vedere una meraviglia E questo come incide sul te essere e vivere in modo sano e essere in perfetta salute per il resto della tua vita? Io ho sentito che sano, ma completamente sano, è l'unica cosa che deve essere per noi, ma completamente sano Che è diverso dal concetto di salute che avevamo, che avevo fino a due giorni fa Sano, completamente sano, è il posto dove si deve stare E adesso con una mente che ti proietta verso fare tutto per te, all'ennesima potenza Vivere in positività, quel sano al 100% è totalmente raggiungibile Assolutamente sì Cioè sano è la base di partenza, diciamo così Quindi totalmente raggiungibile è la base di partenza per volare E adesso guardando indietro a dove eri e dove sei adesso, cosa dici? È come se fossero passati anni luce rispetto a come ero qualche anno fa e a come sono adesso Ogni giorno si è aggiunto qualcosa in più, qualcosa di diverso, qualcosa che mi ha completata E oggi l'apoteosi devo dire Oggi mi ritengo di essere al punto zero per poter volare, ma veramente Quindi tolto quel muro che ti bloccava, cosa vivi? Vedo pace, vivo gioia, vivo serenità, ma non lo vivo a piccoli momenti Lo vivo costantemente, cioè è la normalità, è la quotidianità, è la base per partire, per fare tutto E questo ti cambia la vita? Eh beh direi di sì Io dico che la vita oltre il muro è un'altra cosa Questo è il posto giusto, l'ho capito, l'ho sentito È un posto favoloso, voglio che sia sempre così nella mia vita Tutto il resto era sbagliato, era tutto sbagliato, ma tutto, 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 tutto E mi sento bene, mi sento energica, mi sento rilassata Mi sento calma, mi sento gioiosa E io non vedo l'ora di scoprire cosa c'è dopo Perché in questo momento siamo al punto zero Tutto è stato azzerato Sono dal lato giusto, sono oltre il muro E io non vedo l'ora di scoprire, di scoprirmi, di scoprire la vita, di vivere È una cosa straordinaria, bellissima Guarda la voce dell'uomo che fine fa Brucio la menzogna Io più chiaro di così, vai vai Wow, adesso direi che c'è solo il nuovo Io di così Grazie 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.